uscire su tutte le piattaforme a che ora? A mezzanotte! A mezzanotte, perché sempre a mezzanotte uscire la canzone anche se è estiva, quindi ci aggreghiamo all'intenso enorme numero di gruppi che provano a fare le canzoni estive per guadagnare due soldi dall'estate, noi però con Acume la faremo uscire già a luglio inoltrato, quindi ci faremo probabilmente due cappuccini, una cosa del funzione, però è sicuramente meglio del pezzo dei Rovazzi e dei Tabelli probabilmente. La canzone si chiama La Soluzione, la prima volta che la suoniamo quindi verrà un po' così così, ma ripeto, bocca buona. Fa maggiore? Fa minore! E' veramente la prima volta. Ecco, già sto suono non va bene, vabbè dai proviamo. Ehi! Oh! 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 peuterlo evitare che la situazione in mare divirti ancora più drastica! Forse e' basta solo stare uniti come i tappi alle bottigliette di plastica! Oh! Oh! Non possiamo stare come S hanguo e non avremo più viaggio per il monito! Oh! Oh! Sarà tardi per chiedere scusa, non abbiamo Abbiamo ancora capito, anche se noi non ci saremo, i nostri figli saranno qua. C'è chi dice spreca di meno non inquinare, ma la soluzione c'è l'ho. Oh, 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 e oh, basta non fare i bambini, bambini, basta non fare i bambini e così ci sarà meno sbocco. Oh, 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 e oh, basta non fare i bambini, bambini, basta non fare i bambini. E così risolviamo tutto. Dobbiamo estinguerli, anzi sopprimerli, anzi abortire questi sprechi di luce e di gas. Non serve del mass, c'è la siccità. Ai giovani di oggi non ci pensa lo Stato, se sotto questo sole mi hanno abbandonato. E come a fiera costa un ceditore sbattato, che scorda il figlio in alto e lo ritrova panato. Anche se noi non ci saremo, i nostri figli saranno qua. C'è chi dice spreca di meno, non inquinare, ma la soluzione c'è l'ho. Basta non fare i bambini, bambini, basta non fare i bambini, e così ci sarà meno sbocco. Basta non fare i bambini, bambini, basta non fare i bambini, e così risolviamo tutto. Basta non fare i bambini, bambini, basta non fare i bambini, e così risolviamo tutto. Ovviamente il concetto è che non bisogna fare i bambini, nel senso non bisogna essere infantili, non bisogna comportarsi da bambini, e quindi tenere la testa sulle spalle. Per quanto riguarda invece fare figli, noi siamo chiaramente favorevoli.